La Fiorentina ha un solo risultato a disposizione guardando la classifica, ma a maggior ragione lo stesso vale per il Chievo nella partita in programma domani a l'ora di pranzo al Bente Godi. Ultimi con appena 8 punti, 3 sono stati tolti loro dalla giustizia sportiva, gli uomini di Mimmo Di Carlo devono assolutamente iniziare subito la loro rincorsa se vogliono sperare in una salvezza sempre più complicata. La Fiorentina è forte, non lo diciamo noi, ma lo dice il grande lavoro fatto dalla società, da Corvino e da Stefano Pioli che hanno in squadra veramente giocatori di grande spessore. Quindi la Fiorentina dovrà e deve fare un campionato di alta classifica perché con l'acquisto di Muriel penso che abbia dato un segnale anche importante alla squadra. Quindi complimenti al Corvino, complimenti alla proprietà, però noi siamo nel Chievo, giochiamo in casa, dobbiamo riscattare una sconfitta e questo mi dà molta fiducia perché ho visto i ragazzi abbastanza carichi, giusti, arrabbiati per affrontare al meglio la Fiorentina e per battere la Fiorentina ci vuole il miglior Chievo. Ma è del tutto evidente che i favori del pronostico vadano ai viola. Pioli ha provato a tenere tutti sulla corda perché in questo periodo il mercato può anche distrarre, ma ha parlato chiaro con il gruppo. Guai a pensare anche alla partita di Coppa Italia contro la Roma di mercoledì prossimo che rischia di diventare l'obiettivo primario della Fiorentina. Il tecnico vuole sei punti nelle due trasferte in Triveneto che precedono e seguono il quarto di finale. Per questo domani niente turnover ma solo i cambi obbligati dalle squalifiche. Lo sdoveno Anzco giocherà a sinistra al posto di Biraghi, mentre Norgad è favorito per sostituire Edimilson a centrocampo con il probabile ritorno di Benassi per Gerson. In avanti ovviamente il nuovo tridente che scintilla a chiesa Simeone Muriel con il colombiano attesissimo dai tifosi. A Verona saranno in 700 a seguire la squadra dopo le superprotezze di domenica scorsa.